Ok, registrazione attivata, procediamo all'appello della seduta 34, sono le 10 e 17, prego. Consigliere Giroffi, assente. Consigliere Caronia, assente. Consigliere Ferrara, assente. Consigliere Gentile, assente. Consigliere Melluso, assente. Presidente Russo, assente. Consigliere Tantillo, assente. Un solo presente. Bene, sono le ore 10 e 18, per mancanza di numero legale, la seduta è chiusa. Va bene? Va bene. Buon fine settimana. Anche a lei. Interrompo.